Sì signora, la dottoressa sta qui fino alle sette e mezza. Quanti sono qui per un certificato per il lavoro? Mi ha portato qua mia figlia. Ha detto, mamma quanto sei pallida. Perché non hai voluto fare la specializzazione? Mi piace fare il medico della mutua. A nessuno piace fare il medico della mutua. Qui non funziona più niente. E noi non possiamo ancora aspettare che qualcun altro ci salvi. Ma se uno volesse fare uno stato? Ma a lei mi piace questa democrazia? E che è una democrazia questa? Ma per carina? Torniamo a casa, dichiariamo l'indipendenza e buttiamo la pasta. Mia madre sta per creare un nuovo stato in casa mia. Ma che regole ci saranno in questo stato? Questa è la nostra bandiera. Io sarò la regina. Sì ma se comandi tu che cosa cambia per me? Io devo scrivere la Costituzione. Lingua, cultura, origini e tradizioni. È una famiglia. Siamo noi.